Pensiero del giorno. Faccio uno o più passi nella giusta direzione. Rispetto me stesso con amore. Fai un cambiamento sano. Se schioccando le dita tu potessi cambiare qualcosa nella tua vita, quale sarebbe? La prima risposta che ti viene in mente è una questione che deve essere affruttata. La tua anima desidera un cambiamento e il tuo io interiore sta aspettando che tu faccia qualcosa al riguardo. Prenditi cura di te stesso. A volte significa entrare nell'abisso dell'ignoto. Ma se mantieni l'intenzione di migliorare la tua situazione, sappi che ti sosteniamo completamente. Oggi muoviti in direzione della manifestazione del cambiamento che desideri. Compiere un passo, grande o piccolo che sia, mette in moto l'intero universo a tuo vantaggio. Perché a ogni azione che intraprendi fa seguire un grande contributo alla tua causa. Grazie. 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 Grazie.